La trasferta di Ibola per chiudere il girone di andata, caccia delle trisse di successi consecutivi, non accade da tempo in memore, ovvero dalla stagione 2015-2016, quando il Pescara di Massimo Oddo fu addirittura capace di vincerne 7 di seguito, dalla 18esima alla 24esima giornata, poi 5 di fila dalla 34esima alla 38esima. Auteri recupera Drudi, probabile qualche cambio in vista del confronto ravvicinato con l'Ancona in programma mercoledì 22 dicembre, che andrà a chiudere un anno il 2021 da dimenticare in fretta. A Imola potrebbe cominciare Cancellotti e non Zappella, a centrocampo forse Memusciai. Davanti scalpitano l'ex De Marchi, Rauti rivitalizzato dal gol siglato contro la Pistoiese e lo stesso Chiarella. Attenzione al Baby delle Monache, classe 2005 protagonista nel campionato Primavera 1, pronto a salire stabilmente in prima squadra. Insomma, sempre più un Pescara all'insegna dei giovani. Nel mercato di gennaio le scelte andranno in questa direzione, bisognerà però prima sfoltire. Poi arriveranno soprattutto Under dal 1999 in giù. Come anticipato, due centrocampisti di gamba, un attaccante e un difensore rapido. Imolese tutt'altro che in crisi, a prescindere dai risultati che farebbero pensare all'esatto contrario. Appena due pareggi nelle ultime sette partite. Letizia infortunato, ai margini per squalifica il difensore Vona. Al rientro il promettente Angeli, classe 2002 Scuola Milan, centrale col vizzo del gol. Ben 5, capocannoniere della squadra di Gaetano Fontana. Ex centrocampista di Ascoli, Padova, Fiorentina, Napoli. Piede Mancino, grande qualità. Da allenatore ha di fatto cominciato in D alla guida della Sant'Egigliese nel 2010 in sostituzione di Aldo Amazzalorso. Fuori rosa da tempo l'esperto attaccante stanco, classe 87. Sparito dai radar l'argentino Nicolas Belloni, girato in prestito in estate proprio dal Delfino. Soltanto 13 minuti nelle ultime sette partite. Sistema di gioco 4-3-3, dubbio Torrasi, Dalena in mediana, Mezzali, Lombardi e Benedetti. Scuola Sampdoria, tre più in forma. In attacco, certi della maglia da titolare. Lex, Padovan e Turchetta.